Con apposito decreto il Presidente della provincia Michele Strianese ha convocato per il 22 febbraio alle ore 11 la prima seduta del Consiglio provinciale eletto a seguito delle elezioni di domenica 3 febbraio. Il Consiglio, convocato in seduta pubblica straordinaria in prima convocazione, avrà fra i punti previsti all'ordine del giorno anche la convalida dei consiglieri provinciali proclamati.